Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive siete appassionati di orologi abbiamo promesso abbiamo già fatto due puntate quindi ogni tanto a cadenza per solo per i pochissimi appassionati di orologi facciamo vedere ogni tanto una puntata con dei nuovi modelli se siete interessati a questa terza puntata seguitici vi faremo vedere qualche cosa interessante sigla quindi come premesso questa è la terza puntata dove cerco di far vedere un po' di orologi della mia collezione e di associare a ciascun orologio dando due o tre caratteristiche per ciascun modello una macchina di riferimento quindi oggi parliamo come tipo il giro sono appassionato sostanzialmente di cronografi e di gmt cioè come complicazioni cronografi e gmt però nella mia collezione ho anche alcuni orologi che vengono definiti dress watch cioè orologi eleganti la maggior parte dei quali o li ho ereditati da mio papà piuttosto che regalato il matrimonio quant'altro quindi adesso oggi ho portato quattro orologi che ritengo essere quattro pezzi molto interessanti appunto definiti dress watch il primo che vi voglio far vedere è questo orologio che è un orologio molto particolare un orologio da tasca come vedete è un orologio da tasca della rolex anni 40 che ha un diametro di 44 questo è un orologio molto interessante perché è marchiato rolex bukerer bukerer è il diciamo il rivenditore rolex che è stato acquistato recentemente dalla rolex più grosso del mondo ed è un diciamo una è un rivenditore che ha un sacco di punti 20 e soprattutto in svizzera e che il rivenditore più grande appunto di questi di questo marchio questo è orologio molto dal mio punto di vista molto bello con queste lancette fatte ad ancora numeri arabi secondi al 6 carica ovviamente meccanica quindi carica meccanica molto particolare e la particolarità di questa e di questo orologio è il fatto che uno attraverso questo anellino come si faceva un tempo attaccava la catenella e diventava ingestibile oppure ho trovato una soluzione di direi veramente geniale che vi faccio vedere dove con una basetta in titanio sviluppata appositamente regolabile quindi una basetta in titanio che viene fabbricata in in algeria figuriamoci neanche in germania o in svizzera in algeria e appunto marchiata come si può vedere titanio quindi è estremamente leggera a queste ansettine di contenimento che a questo punto possono essere regolato ovviamente poi bisogna prendere un cinturino in questo caso un cinturino che ha un'ansa da 22 e a questo punto si può vincolare un orologio che in questo caso un orologio con uno spessore abbastanza ridotto un orologio da polso un orologio da da tasca e utilizzarlo tranquillamente come orologio da polso direi che un orologio da tasca un come dire dal mio punto di vista un quadrante come questo è un quadrante che gli orologi moderni si sognano assolutamente perché è veramente a una come dire una patina che pochissimi orologi possono avere e il fatto di goderselo in maniera così semplice l'ho trovato veramente geniale cioè chi ha inventato questa piastra di supporto è veramente un genio devo dire gli ho fatto i miei complimenti e direi gran bella gran bella invenzione quindi come dicevo questo è un rolex tasca anni 40 diametro 44 al quale io andrei ad abbinare questa macchina sempre particolare che abbiamo avuto l'onore di avere in officina che è un aston martin bb7 vantage che può essere vintage in effetti è una macchina che ormai è annoverata tra quelle vintage è un pezzo molto particolare come penso lo sia questo tipo di orologio io a questo punto passerei al secondo orologio che è sempre un dress allora in questo caso si tratta di un bacheron constantin la caratteristica è il fatto che me l'ha regalato mia moglie per il matrimonio anche questo ovviamente un orologio a carica manuale rigorosamente manuale con il i minuti alle ore 6 quadra tutto perfettamente coevo il nominati la caratteristica di questo orologio sono queste ansie a goccia e il il nickname di questo orologio si chiama tier troplax che riguarda appunto queste ansie particolari tipiche delle produzioni non solo bacheron constantin ma delle produzioni degli anni 40 bacheron constantin è uno dei due tre marchi insieme a patek filippe insieme ad arpighet insieme a pochissime altre marche che hanno fatto proprio la storia della loro loggeria questo come referenza è un 41 26 ed è appunto degli anni 40 un'altra caratteristica è il diciamo il bracciale completamente originale che ha fatto di potersi inserire quindi non al classico diciamo la classica fibbiettina ma è stato curato anche nel dettaglio come come tipo di bracciale devo dire sono orologi che si usano chiaramente in occasioni particolari anche perché sono orologi non dico neanche estremamente delicati però non sono orologi da usare tutti i giorni però fa molto molto piacere averli in collezione perché sono orologi che oggi sono assolutamente introvabili la dimensione di questo orologio è un 34 che oggi è una dimensione assolutamente piccolissima per gli orologi degli anni 40 è un orologio di grosse dimensioni cioè allora le dimensioni degli orologi erano molto molto inferiore quindi un orologio di questa dimensione che diciamo non può essere assimilabile a un day date degli anni 90 degli anni 80 per dire o qualche cosa di leggermente più piccolo negli anni 40 era un orologio veramente molti dimensioni e molto molto importanti a questo orologio ho pensato di abbinare sempre come macchina caratteristica macchina particolare questa corvette c3 stingray leggermente negli anni 70 questo è un anni 40 questo qua è un anni 70 non avevamo una macchina negli anni 40 in maniera tale da trovare una coevità però mi sembra una macchina che in questo caso molto molto particolare quindi quello che associa e quantomeno questi due oggetti rimane sempre la particolarità di una macchina che è stata costruita in pochissimi esemplari con un orologio che appunto ha segnato la storia dell'orologeria quindi assolutamente ringrazio molto mia moglie di questo bellissimo regalo che lo tengo molto gelosamente io adesso passerei sempre a un altro vacheron constantin sempre anche in questo caso fa parte di un regalo che in questo caso questo orologio è appartenuto a mio padre che purtroppo è morto recentemente e tengo gelosamente perché un orologio veramente al di là della marca che vi ho spiegato prima la caratteristica di questo orologio è l'estrema sottigliezza se voi guardate guardate la diciamo la l'altezza di questo orologio la definizione di questo orologio si chiama tank extra plate quindi diciamo il termine tank deriva un po' dal da quelli che erano i cartier tank orologi diciamo a base rettangolare extra plate perché appunto case come bascerò constantin sono state le prime a proporre sul mercato gli orologi veramente fini questo orologio ai tempi era uno dei più fini ne sono stati prodotti addirittura ancora più fini di questo il più sottili di questo quindi bisogna capire l'ingegneria cioè quello che diciamo sta attorno alla costruzione tecnica e meccanismi contenuti in uno spessore veramente di queste dimensioni c'è lì ci vuole veramente un un tecnico di altissima scuola assolutamente non c'è non c'è dubbio quindi anche in questo caso orologio dotato che mio padre mi ha lasciato con la sua scatola perché l'aveva comprato lui personalmente la referenza una 75 90 e questo mi ricordo perfettamente che l'ha acquistato all'inizio degli anni 70 quindi è in casa nostra da più o meno inizio degli anni 70 ovviamente anche questo carica manuale come il precedente per questo tipo di orologio direi che una macchina sicuramente logica e corretta da abbinare questa ferrari testa rossa v 12 12 cilindri che abbiamo avuto il piacere di avere in officina per delle riparazioni circa una decina di anni fa e che sono macchine molto rare da tenere in maniera assolutamente maniacale così come appunto questi orologi forse più delicata la ferrari che non questo orologio qua che ovviamente con una manutenzione diciamo normale si può usare tranquillamente senza particolari patimi danno l'unica cosa è tenerli lontano come la pesta dall'acqua l'unica cosa è quella per il resto una ferrari veramente è forse anzi direi sicuramente più delicata però direi che sono tutti e due per chi se lo può permettere forse più la ferrari chiaramente sono tutti e due oggetti di altissimo valore e che appagano l'occhio e chi si può se li può permettere devo dire sono veramente un appagamento personale veramente incredibile per concludere sempre parlando appunto degli orologi dress watch sempre parlando di marchi storici al top questo è un patec philippe il modello calatrava anche questo per dire anni 40 ecco questa è la misura sostanzialmente standard di un orologio anni 40 anche questo molto la caratteristica oltre alla carur diciamo il tipo di anse molto particolari ovviamente anche questo carica manuale sempre con minuti al 6 patec philippe credo che sia la casa sicuramente più quotata sul mercato basciano constantena un'ottima casa patec philippe è ancora un gradino superiore quindi parliamo qui di altissima orologeria ci sono orologi patec philippe che hanno valori molto molto superiori a questi però il fatto di potersi permettere almeno un orologio di questa marca in collezione sicuramente mi fa molto piacere è un orologio veramente perfetto quindi anche in questo caso forse è uno di quelli che ho sui quali dovrò fare una un servizio di manutenzione mentre gli altri li ho fatti revisionare quasi tutti però sono orologi che se non vengono usati in maniera costante la manutenzione la si può anche diciamo spostare più avanti nel tempo comunque è un orologio che perde mediamente 5 secondi al giorno quindi ancora abbastanza nelle tolleranze per essere appunto un meccanismo degli anni 40 quindi come abbinamento a questo orologio ho pensato di abbinare questa macchina molto particolare che ha una storia molto particolare che abbiamo avuto modo di restaurare in maniera completa questa è una lancia flavia berlina 2000 iniezione elettronica che abbiamo completamente restaurato è stata da noi credo tre anni e dentro nelle schede c'è un video apposito sul canale che parla appunto di questa vettura ci è arrivata in scatola di montaggio l'abbiamo completamente restaurata come un motore carrozzeria interni meccanica tutto il cliente era affezionato perché anche questo in questo caso il era la macchina del nonno se non ricordo male non so con quali traversi è riuscito a recuperarla e ci è arrivata su un carroattrezzi con scatoloni che riguardavano il motore il telaio la selderia parte dei pezzi erano stati persi è stato veramente un calvario alla fine ci siamo riusciti la macchina è tornata praticamente nuova è stato un lavorone veramente molto impegnativo da un punto di vista tecnico e anche economico il cliente un cliente molto facoltoso di milano e veramente quando l'è venuta a ritirare gli piangevano gli occhi perché ricordava proprio la macchina di suo nonno così come come se la ricordava da bambino devo dire è stata una soddisfazione veramente molto molto appagante per coloro che fanno un lavoro simile al nostro quindi direi che anche questa similitudine tra questo tipo di orologio di questa marca molto particolare e una vettura di questo genere ho trovato appunto una similitudine assolutamente coerente quindi mi faceva piacere condividere con voi io direi che anche per questa puntata di orologi appunto dress watch è tutto magari la prossima puntata ne faremo un'altra su un'altra tipologia di orologi che vedrò di recuperare dalla mia collezione comunque cercherò di fare appunto delle puntate non troppo spese perché sono proprio dedicate a pochi appassionati a voi interessano di più diciamo discorsi che riguardano le auto però ogni tanto anche bello è anche utile spaziare e avere come dire un'interazione con della gente che ha la passione oltre che con le macchine anche con altri oggetti tipo appunto gli orologi io direi che per il momento è tutto cliccate sotto sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati a tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima